Buonasera, buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con LIDER. Anche oggi vogliamo stupirvi con effetti speciali. Abbiamo trovato tra i tanti amici che sono vicini al nostro gruppo editoriale un amico particolare, uno che io conosco ovviamente da moltissimi anni e che è una delle persone più poliedriche che abbia mai conosciuto, perché lui riesce a fare qualsiasi cosa, sa scrivere, fa il regista, si occupa di sport, si occupa di sanità, insomma si occupa di tanti, è un egittologo, questo è importante sottolinearlo, ma soprattutto è un mio caro amico, Francesco Santocono. Ciao, ciao Giacomo, grazie dell'invito, grazie della presentazione. Diciamo che... Corrisponde a realtà, non ci ho messo niente. No, no, vabbè, in parte voglio dire, non sono un egittologo, sono un egittofilo, un amante dell'egittologia, un'autodidatta dell'egittologia, però mi piace scoprire, ecco l'egittologia come momento cruciale da cui partire, perché la mia vita è un po' una scoperta un giorno dopo l'altro, un appassionarmi a tante questioni, a tante voci, a tante cose, quindi affronto quelli che sono i miei obiettivi con tanto entusiasmo, se non c'è l'entusiasmo non riesco a raggiungere i miei obiettivi e quindi... Questo è importante, allora noi abbiamo 30 minuti, cercheremo di viaggiare in maniera spedita perché dobbiamo dire tante cose, io voglio farvi conoscere realmente Francesco Santocono perché è una figura che veramente di notevole prestigio per la nostra terra, è un leader, io l'ho detto in apertura e non lo dico per piageria, ma lo dico perché ne sono convinto. E allora siamo partiti dall'Egitto, perché tu sei un egittofilo, ma sei stato parecchie volte in Egitto, hai avuto l'opportunità anche di conoscere grandi personaggi che si occupano di Egitto e sono egittologhi veramente nel senso della parola, no? Sì, beh, stai parlando sicuramente del professore Zaki Awas, che è il più grande egittologo vivente al mondo, che si sta occupando proprio in questi giorni di cose molto importanti per l'archeologia che riguardano da una parte la piramide di Icheopera, dall'altra parte la scoperta eventuale della tomba di Cleopatra, insomma un sacco di cose molto interessanti e che mi hanno visto da vicino, coinvolto da vicino perché andando spesso in Egitto e andandola a trovare capita molto spesso che lui mi dica vieni con me e mi porta in questi luoghi fantastici a vedere novità straordinarie e ti posso garantire che ho assistito a cose veramente importanti che poi a distanza di un anno abbiamo visto, gli italiani hanno potuto vedere in televisione. Hai destato una curiosità in tanta gente, in me in primis, quindi io mi candido e mi prenoto per poterti seguire nella tua prossima avventura, però ti chiedo ma oggi andare in Egitto è, diciamo, da star tranquilli oppure c'è da preoccuparsi? No, l'Egitto è un paese tranquillo, molto ospitale, gli egiziani sono meravigliosi, Cairo è una città... Io però per la vicinanza delle guerre purtroppo... No, 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 non si sente... Facciamo il giro largo! No, no, non si sente, non si sente, almeno in questo momento è tutto a posto, quindi io andrò tra poco, andrò laggiù, non ho mai trovato nessun problema, la città è un paese straordinario, con persone straordinarie. Allora, per continuare sul contesto della materia Egitta, poi avremo tante altre cose da dire, tu stai organizzando anche una serie di eventi importanti anche qui a Catania, in Sicilia. Guarda, in questo senso entro un po' in confusione perché ho tante le cose da mettere in sequenza. Faccio un reset! Volevo arrivare prima, ma abbiamo avuto un ritardo su un evento che per noi è l'evento cruciale, da cui fare partire molte cose, che poi è l'opera lirica Tutankamon, che è stata scritta dal maestro Lino Zimbone, di cui mi pregio di aver scritto il libretto. Un'opera che sarà messa in scena, se tutto va bene, a settembre. L'anteprima sarà a Ghedda, in Arabia Saudita, poi sarà ripetuta negli Emirati Arabi a Dubai e poi infine approderà in Egitto. Almeno questa è la sequela degli appuntamenti principali. Da lì poi farò partire anche altre cose perché ciò... La trasmetteremo anche noi con il nostro canale Sicilia 242. Perché noi... È sul nazionale. Perché noi in uno degli appuntamenti magari venite ospiti nostri e venite a fare delle riprese. Da lì vorrei poi fare partire tante altre cose che ho in sequela. Perché ho scritto un'altra tragedia egizia dopo il loto del papiro, che ha avuto tantissimo successo nel 2017. Un'opera, una tragedia che si chiama Isiade ed è una storia bellissima che riguarda la dea egiziana Iside e il marito Osiride. Uno scontro, lo scontro eterno tra la passione e la razionalità. E poi ho scritto, questa volta non in prosa ma in rima, un'avventura nel Libro dei Morti. Questo mi riservo di parlarne dopo perché è una grande sorpresa. E poi ho anche il mio prossimo romanzo, Quasi pronto, che è il seguito di Una specie di magia, che è andato benissimo due anni fa. E nel frattempo dovrei anche promuovere destini avversi il film. Vedete, se ho aggiunto qualche cosa nella presentazione, se vi siete persi, poi vi faremo una scaletta perché deve calendarizzare tutti gli impegni che hai. Sono veramente tanti. Però devo dire che mi sto divertendo, mi sto divertendo molto perché ho a che fare con persone meravigliose, con cui condivido spazi, tempo e conosci sempre gente. La cosa bella di fare questi lavori è conoscere persone, incontri, e scoprire delle personalità straordinarie con cui spesso rimani amico. Ecco, tu a parte il fatto che come abbiamo detto hai scritto, sei anche musicista mi pare di ricordare, sai suonare anche qualcosa. Sì, ma non a livello di esibirmi. Diciamo che quando ero ragazzino ho fatto il cantante per due, tre anni. Quindi questa mi mancava. Con un gruppo rock che poi ha avuto il suo successo successivamente, i Kaftua, che sono stati un gruppo... C'era anche Cosimo Pedicone. Cosimo Pedicone, ma Pedicone quando io ero ragazzino. Poi i Kaftua hanno avuto successo dopo con Orazio Russo, che ha fatto degli album veramente notevoli dal punto di vista musicale. Ma io e Cosimo già non c'eravamo più. Allora vi siete divertiti. Ci siamo divertiti perché sono stati due, tre anni veramente straordinari. Poi sono riuscito a fare anche un 45 giri da solista e un Q-disc. All'epoca c'erano i Q-disc. Questo denuncia la nostra età. Eh sì, non lo diciamo. Non scopriamo tutte le carte. E allora, questo ovviamente è il lato artistico, perché come detto, regia, scrivere anche questi libretti, creare questi corti, che tra l'altro sono veramente belli. Quello che ho potuto apprezzare moltissimo ha un tema eccezionale, che è stato quello legato un po' a Freddie Mercury, no? Alla figura di Mercury. Sì, stai parlando di Io e Freddie, che poi è stato tratto dal libro proprio in una specie di magia. Io e Freddie è stato il primo cortometraggio, un esperimento che è riuscito veramente bene, di mettere insieme la prevenzione contro l'AIDS all'interno di un contenuto cinematografico. Ovviamente Io e Freddie l'ho scritto io, la sceneggiatura l'ho scritta io perché io ho scritto il libro, quindi ho voluto tradurlo. Hai voluto fare tu chiavi in mano, darlo a chiavi in mano. Poi tu poco fa hai detto che sono un regista, in realtà non sono un regista, ma mi sono prestato a fare il regista. Insomma, hai coordinato, ecco, se vogliamo dire. Ma solo per caso, regista per caso, perché è cominciato tutto con Io e Freddie, quando è venuto meno il regista, nel senso che non aveva tempo per farlo, doveva farlo un altro regista. Non è molto? No, 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 sta benissimo. È ancora vivo. Sta benissimo, sta benissimo, godo di ottima salute. Però, per motivi suoi, non ha potuto più dirigere il film. E allora dovevamo scegliere un regista, a un certo punto avevamo questa difficoltà, Alessandro Haber e la meravigliosa Stella Egitto, mi hanno chiamato, mi hanno detto, l'hai scritto tu il film? Dirigilo tu. Abbiamo un ottimo direttore della fotografia, ti do una mano io e così è stato. Ho imparato in quella sede a dirigere un film, ma in realtà non sono un regista, come ben sai. Però te l'hai scavata molto, molto, molto bene. Beh, grazie ai maestri che mi guidavano. Grazie ai maestri, però è stato un ottimo prodotto. Però il secondo Destini e Versi l'ho proprio diretto io, secondo l'esperienza che avevo avuto. Ed è andata bene, ed è andata bene. È andata bene, quindi voglio dire, provetto regista. Allora, ecco, noi nella titolatrice abbiamo scritto scrittore e giornalista, tu sei anche giornalista. Soprattutto quello, soprattutto. Lo hai fatto in illo tempore, non so se ora c'è il tempo di... No, lo faccio, lo faccio per mestiere, lo faccio per mestiere. Capo ufficio stampa, sì. Faccio il responsabile dell'unità operativa di comunicazione di un'azienda ospedaliera a Catania e ovviamente, essendo l'unico giornalista nel mio ufficio, mi occupo anche dell'ufficio stampa. Quindi lo faccio, lo faccio. Non ho mai smesso di farlo, mi piace farlo. Ogni tanto qualche collega mi chiede di scrivere qualche articolo in qualche giornale. Lo faccio molto volentieri e mi diverto. Ed è il mio mestiere principale, quello di giornalista. Ecco, ma il tuo mestiere principale, io chiaramente lo so, è una domanda così per i nostri telespettatori, ma in questo momento, io non ti voglio tirare per i capelli nel contesto della sanità, perché capisco che diventa difficile, ma tu che sei un comunicatore, quindi fai questo mestiere, il nostro mestiere, che è abbastanza delicato, non è sempre veramente più difficile dover parlare di sanità, a raccontare di sanità, con i tanti problemi che affliggono la sanità, perché alcuni dicono una deriva verso tutto privato e poco garantito nel pubblico. Guarda, faccio un inciso su questo, poi magari capiamo argomento, perché non vorrei annoiare il pubblico con le questioni di sanità. Una volta era più facile parlare di sanità e più difficile parlare di salute. Oggi è più difficile parlare di sanità e più facile parlare di salute. E con questo ti ho detto tutto. Vero, è così. Io non voglio inferire, perché voi sapete, ci seguite, spesso dedico anche degli approfondimenti legati al barricato mondo della sanità. Ricevo con particolare attenzione le vostre sollecitazioni che ci portano in un pianeta che ormai purtroppo siamo costretti a conoscere. Ci sono tante disfunzioni nell'ambito sanitario, in ambito sanitario, che veramente ci preoccupa molto. Perché per esempio, voglio proprio chiusare per cambiare l'argomento, sul fatto che dati ultimi dicevano che c'è tanta gente che ha smesso di curarsi. Perché non ce la fa più a pagare, perché le attese sono di anni, non di mesi. E poi costosissime per poterlo fare alcuni. E questa è una percentuale, caro Francesco, che è veramente mortificante, parlando di cultura di 2024. Io credo che ci sia veramente da rimboccarsi le maniche e da lavorarci su, ognuno con il proprio ruolo. Voi, noi come giornalisti, i medici come medici, gli infermieri come infermieri, ma soprattutto i cittadini come cittadini. I cittadini dovrebbero interessarsi di più e fare più squadra, più forza. All'interno degli ospedali, delle aziende ospedaliere, ci sono degli strumenti straordinari che possono aiutare chi dirige una azienda ospedaliera a dirigerla bene. E questi strumenti sono il comitato consultivo, che racchiude 40 associazioni di cittadini. Il comitato consultivo poi può raccordarsi con la rete civica della salute, che vi assicuro che in Sicilia lavora bene. e ci sono uomini volenterosi che vogliono far crescere la sanità, ma hanno bisogno della forza dei cittadini. Quindi i cittadini non devono più dire «Ah, la colpe di quel politico, la colpe di quell'altro». I cittadini devono scendere in campo. I cittadini devono capire che la sanità è una cosa propria. Non devono accettare stupinamente. Assolutamente. Devono scendere in campo, ma in maniera costruttiva, non distruttiva. Non andando su Facebook o sui social a sparando a zero sull'uno o quell'altro, ma mettendosi insieme e facendo proposte. Perché vi assicuro che chi lavora nelle strutture sanitarie lavora per migliorare i servizi. Poi spesso non ci riesce, ma non ci riesce perché non ci sono i supporti. E i cittadini possono essere veramente d'aiuto. Allora bisogna lavorare in questa direzione, cambiare la prospettiva. Bisogna essere propositivi. Propositivi, consigliare bene, evitare di criticare sempre. Noi siamo abituati solo a criticare. Noi dobbiamo cercare, io sposo perfettamente il tuo pensiero, bisogna spingere coloro che sono preposti. Io ho avuto un'esperienza durante la sindacatura di Enzo Bianco. È stata un'esperienza meravigliosa perché lavorare con un sindaco come Enzo Bianco, illuminato, devo dire, una persona straordinaria, che mi ha fatto lavorare bene perché mi ha detto tu devi creare un raccordo tra i cittadini e la sanità. Insieme alla rete civica della salute abbiamo fatto un lavoro meraviglioso in tutta la città metropolitana, che poi è andato via via perdendosi, non so che fine abbia fatto adesso, però in quel momento abbiamo coinvolto decine e decine di associazioni e qualsiasi problema veniva fuori e cercavamo di risolverlo. Poi dal risolverlo è un'altra cosa, però cercavamo di risolverlo. Tu capisci bene che poi i problemi sono tanti. Oggi abbiamo una politica che vorrebbe fare meglio, vorrebbe fare meglio, i politici che ci sono oggi, le persone li denigrano, quasi si lidicano per la politica, bisogna aiutarli questi politici. E siamo noi cittadini a doverli aiutare. Però bisogna prendere le distanze dagli improvvisati o da coloro che non hanno le competenze, perché purtroppo, io spesso lo dico, quando un politico si assume una responsabilità senza avere le competenze è un delinquente, è una persona che fa solo male a chi poi dovrebbe in qualche modo aiutare. Questo lo dico a 360 gradi, attenzione, perché ci sono tanti politici purtroppo che si sono improvvisati a mansioni di cui non avevano nessun tipo di competenza. Noi stiamo parlando di competenze. Sì, 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 io dico quelli con cui ho avuto a che fare per motivi di lavoro. Li promuovi tutti. Li promuovo tutti nella volontà e nella voglia di capire, di conoscere. Non ne faccio una questione di destra, sinistra, eccetera. Sì, 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 no, ma infatti no. Ho trovato sempre grande voglia di capire come funziona il meccanismo. E però poi, come dici tu, la politica è fatta anche di burocrazia, di dirigenti, di tutto il resto e di amministrazione dove non sempre va tutto per il meglio. Perché io, vedi, avendo fatto il militare purtroppo, non dico purtroppo, dico purtroppo perché ormai... L'ho fatto anch'io. È passato veramente tanto tempo, purtroppo, su questo devo dire. Però ecco, la gerarchia militare, ti dà lo specchio di quella che è la cultura anche politica del momento. Perché vedete, in passato si diceva che non comandava il capitano, quindi colui che ci metteva la faccia, ma comandava colui che era dietro le quinte, quindi il maresciallo, il sergente, il sottoufficiale. E quindi questo mi fa riallacciare al contesto amministrativo. Non è quasi mai l'assessore che dirige o che comanda, ma sono i funzionari. Esattamente. È tutto il sottobosco che crea i problemi. Se tu ci ragioni, avendo fatto il militare, ti ricordi, è un dato di fatto. È un dato di fatto. Quello che dici tu è esattamente, corrisponde al vero. Prima di sparare a zero su un politico, bisogna capire da chi ha aiutato quel politico. Da chi ha aiutato, dov'è, in che contesto si trova. Cioè, miracoli non ne può fare nessuno. Assolutamente. Poi voglio dire, si è uomini, si è uomini. Ci sono quelli bravi, quelli scarsi, quelli furbi, quelli meno furbi, ma quello è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Allora, lasciamo il contesto della sanità. Parliamo invece della professione giornalistica. Ecco, e del fatto che a te piace molto scrivere, non so quando riesci a trovare il tempo per farlo, mi devi dare anche la ricetta. Perché io vorrei scrivere un libro, ma non ho mai trovato il tempo per poter manco abbozzare l'incipit iniziale. Non c'è dubbio, lo dico subito, io scrivo di notte. Di notte? Io dormo tre ore per notte. Quindi sei un po' andreottiano. Sì, sei un po' andreottiano. Non dormo mai più di tre ore per notte. Riesce ad essere concentrato. Riesco ad essere concentrato, soprattutto la notte. La notte mi concentro, mi vengono i pensieri, e quindi trovo l'ispirazione. Scrivi a penna o usi un computer? No, uso un computer. Che sai? No, però se sono da qualche parte, non ho il computer dietro e mi viene un'idea, me la segno con la penna. Te la segni e te la segni per non perdere. Sì, molto spesso, soprattutto quando scrivi cose complicate, come le rime, che te le devi andare a cercare. Te le segni per non perdere. Mi viene in mente all'improvviso, e ho detto, Dio, questa mi piace, me la segno per prima che me la dimentico. Però generalmente scrivo al computer. Quanti libri hai scritto finora? Allora, libri ne ho scritti tanti, dal punto di vista professionale, perché tra le altre cose, una cosa che non hai detto, io insegno all'università. Ah, che miseria, me l'ha sfuggita questa cosa. Me l'ha sfuggita. Insegno diritto sanitario all'Università Giustino Fortunato di Benevento, una università meravigliosa che mi ha dato l'opportunità di un contratto per fare diritto sanitario. E ho scritto sei, sette libri per quanto riguarda la mia materia. E poi ho scritto due romanzi, una tragedia egizia, e ora ho tutto il resto pronto. Quanto dedichi all'università? Quante ore dedichi? Guarda, io una volta al mese vado a Benevento, faccio la lezione, l'indomani faccio gli esami e poi torno. Non dedico molto. Quindi fai proprio subito? Perché poi è tutto online, i contatti con gli studenti. Quindi sei facilitato, insomma, la tecnologia ti ha aiutato molto. Sì, è un'università ben attrezzata, c'ha dei tutor meravigliosi che mi tolgono un sacco di lavoro. E quindi da questo punto di vista, però devo dire, mi divertiamo. Questo è una cosa, l'insegnamento è una cosa che mi divertiva di più prima, adesso un po' meno. Per anni ho fatto, per esempio, il docente di diritto sanitario all'Università di Catania, nel corso di laurea di scienze infermieristiche. No, in infermieristica, nella triennale infermieristica, al terzo anno. E per anni mi sono divertito tantissimo, c'è questi ragazzi che volevano conoscere i meccanismi del diritto in un mondo in cui il diritto non viene mai preso in considerazione. Quindi dobbiamo chiamarti anche professore, allora, a giusto titolo, quindi dovremmo rifare la grafica e scrivere professor Francesco Santocono. Allora, nel contesto giornalistico, tu chiaramente sei un osservatore, coinvolto, perché non sei uno che vive su Marte, ma vivi il nostro contesto nazionale. Cos'è che ti colpisce di più che i colleghi scrivono? Qual è l'argomento che disaspetta? E vai subito con il tuo interesse su quello che può essere letto. La prima cosa che leggo sono le cronache politiche. Vado subito a leggere notizie politiche. Ogni giorno lo faccio su dieci giornali, la stessa notizia la leggo su dieci giornali. Con dieci... Ma tu sai benissimo che... Mi fai ricordare Braida, te lo ricordi Braida? Esatto, esatto. Perché mi devo fare una idea mia, perché essendo del mestiere so benissimo come la pensano i miei colleghi. Ma li distingui tra destra, centro, sinistra, moderati. Esatto, e proprio per questo cerco di farmi un'idea ben precisa, perché magari tu dici che è rosso, quell'altro dice che è rosso porpora, quell'altro ancora dice rosso fuoco, e allora io poi il rosso me lo cerco io, quello che è... Ma non lo ritieni geniale Braida quando propose questo scimmiottare con i giornali, prendeva i telegiornali, diciamo, no? La stessa notizia vista, che so, da Emilio Fede... Era meraviglioso, era geniale. Era geniale perché dava un'idea di come una persona deve poi farsi un'idea propria. Ed è ancora più importante oggi, perché oggi, soprattutto i ragazzi che non leggono i giornali, e questa è una cosa bruttissima, perché dovrebbero comprare i giornali in edicola, e leggere i fondi, non limitarsi a leggere titoli e sottotitoli. Perché se oggi abbiamo una cultura didascalica, e abbiamo questo livello culturale abbassato, è proprio perché non si leggono più i giornali, si leggono solo i titoli e sottotitoli. Anche perché nel telefonino, questo strumentaccio che tanto ci ha agevolato nella vita, ma che tanto ce l'ha resa difficile, si riesce a leggere soltanto il titolo e al massimo il sottotitolo. Quindi questi ragazzi sono conoscitori di tutto, ma non approfondiscono nulla, non sanno niente. Cultura anglosana, americana, avesse una cultura più che altro americana. Siamo in piena superficie. In piena superficie. Siamo in piena superficie. Quindi quando c'è da approfondire qualcosa non lo fanno, e si ritrovano in difficoltà poi quando devono affrontare le battaglie. Ma tu riusciresti a rinunciare al telefonino? Guarda, uno come me potrebbe farne a meno. Io ci potrei riuscire oggi, capisco che è difficile, però ci potrei riuscire perché vengo da una generazione che il telefonino non ce l'aveva. I ragazzi di oggi, mi pare... Abusano? Sì, che abusano. Abusano il telefonino, per loro è un'estensione del proprio braccio. Ed è una cosa su cui lavorare. E io temo... Se abbiamo oggi questa condizione, questa cultura didascalica di cui ti parlavo, io temo con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Peggio che peggio. Non lo so cosa si aprirà, però la temo molto questa situazione. Cioè, delegherai il tuo pensiero a pensare ad altri. Non pensi più... Non pensi più tu, ma pensa a qualcuno per te. Esattamente. Questo è quello che... Questo mi fa... Devo dire, mi fa molta paura. Anche perché, voglio dire, tu affidi il tuo modo di essere, perché poi l'intelligenza artificiale riuscirà a riprodurre, se non le emozioni, perché queste penso che non si potranno riprodurre, con l'intelligenza artificiale, però effettivamente penserà per te. Non avrai più l'esigenza di leggere il fondo, di andare a leggere un libro, perché c'è qualche di un altro... E spero che si mettano delle regole per l'uso di questa intelligenza artificiale, quelle regole che non sono state messe per l'uso di internet e del web. Perché il web è un mondo troppo ampio, senza regole, sregolato, che ti permette di fare qualsiasi cosa. Mentre noi, nella vita reale, non facciamo qualsiasi cosa, perché abbiamo delle regole. Andiamo su internet, invece regole non ne troviamo. con l'intelligenza artificiale, senza regole, non so dove arriveremo. E qui infatti i governi stanno cominciando a prendere le distanze, a legiferare, avrebbero dovuto farlo anche nel variegato mondo del web, perché è diventato ormai... Ingestibile. Ingestibile, non si capisce più dove si deve andare, non c'è più certezza di nulla. Non capisci più nemmeno qual è la verità e la finzione. Infatti, le shake non riesci a distinguere, perché sono proprio veritiere. Anche nel nostro mestiere, cioè dare un'informazione per noi è diventato difficile. Molto difficile. Perché danno tutti informazioni e tutti diventano credibili. Basta scrivere una cosa su Twitter o su Facebook, è già credibile. Ma anche a me capita. Capita anche a me, no? Di leggere qualcosa, di nervosirmi, ma poi tu non sai chi l'ha scritta. Magari ha scritto l'ultimo arrivato, diciamo... Io anch'io leggo molto e la mattina leggo tutti i quotidiani. Qualcuno l'ho bandito perché non... Cioè, è insopportabile perché le posizioni... Ecco, le posizioni ideologiche, tu come le vivi? Quando senti qualcuno che è convinto di una cosa e non ci si può parlare, come la vedi tu? Dall'altro, dalla tua intelligenza, perché tu leggi e ci vai da tutti gli angoli. Sì, sì, no, 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 però se il bionterlocutore non vuol discutere, è inutile insistere e non discuto. Semplicemente questo. Lo percepisci, ci rendi conto che non puoi andare... Avverto subito quando una persona è ferma sulle sue posizioni e non è aperta ad apprendere se c'è l'esistenza di un'altra via o meno. L'ho avverto subito, quindi non ci perdo tempo, perché... Poi alla mia età, magari a vent'anni andavo allo sconto. Non ho tempo per queste cose. Ma secondo te è una mancanza di visione, di prospettiva? La mancanza di cultura. La mancanza di cultura. È proprio quel discorso che ti dicevo. Si è abbassato il livello culturale, ma lo vedi in tutti i settori. Guarda la musica. Cioè, 50 anni fa ascoltavamo i Pink Floyd. I Pink Floyd. Oggi, con tutto il rispetto, non voglio fare torta a nessuno, ma non si può ascoltare i Jolier, o non so come si chiama. Cioè, è inascoltabile. Siamo passati dalle stelle alle staglie. Voglio dire, con tutto il rispetto, avrai i suoi fan, avrai i suoi ammiratori, ma io ascoltavo i Pink Floyd cinque anni fa. Jolier, non me ne volere, a me piacevano i Pink Floyd. A me piacevano i Queen, per esempio. Esatto. E come piacevano anche gruppi musicali importanti. Hai detto niente. No, ma a parte gli scherzi, a parte gli scherzi. Il Boss. Cioè, quando tu... A parte gli scherzi, Sant'Ana. Hai capito come il livello culturale si è abbassato? Proprio si è abbassato. Però, devo dirti una cosa, c'è speranza, perché le nuove generazioni ho notato, io sono uno di quelli che ama fare il vettore di canzoni del passato, evergreen, come si suol dire. E devo dire che quando gli fai ascoltare un pezzo, e so, di Luciano Rossi, e più che di... Anche parlando di cantanti indigeni, come Gianni Bella, gli fai ascoltare un pezzo di Gianni Bella e dici, ah, ma sai che è bello? Il problema è farglielo ascoltare. È proprio quello. Quelle erano poesie. Esatto. Erano poesie. Oggi... Il problema è fargli scoprire Gianni Bella, fargli scoprire Mogol, fargli scoprire... Bravo, bravo. Il problema è proprio quello, che non l'ascoltano. Riportare, riportare un pochettino di musica, di quella musica che noi amavamo. Ma guarda, non è solo nella musica, è in tutti i settori. Tutti i settori. Si è bastato il livello culturale in tutti i settori. Non abbiamo parlato del Catania, abbiamo passato... Infatti, perché nota Dolenz, perché voglio dire... Allora, per il Catania possiamo dire che siamo un po' a bagno. Abbiamo vinto un trofeo per la prima volta nella storia dei Rosso A2. Non voglio dare le date di quando sono state fatte le matrici, anche se io sono legato al 46, sentimentalmente. però, ecco, dico, abbiamo vinto un trofeo, una Coppa Italia, la coppetta, diciamo così. L'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta. Però dobbiamo tirarci fuori dalle secche. Ora c'è il derby con il Messina, sarà il derby con il Messina, vedremo che cosa si potrà fare. Siccome questa traduzione andrà anche in replica, chissà che non sia già successo il... Che abbiamo già vinto col Messina. Che abbiamo già vinto con il Messina. Lo possiamo dire, perché noi guardiamo sempre, come si dice, con il solito Pantarei. Allora, facciamo questa intervista col senno di po'. Col senno di po'. Visto che abbiamo vinto con il Messina, adesso dobbiamo vincere i play-off. Lo dobbiamo vincere e ritornare in serie B. È ritornare in serie B. È quello che noi ci auguriamo. Per quanto riguarda il Catania, tu mi hai raccontato qualche anedoto, non so se lo possiamo dire, però ci sono state delle notizie che hanno portato al gruppo Pelligra a gestire il Catania. Sì, siamo tutti felici di avere il gruppo Pelligra a Catania. Siamo tutti felici. Sì, io trovo che abbiano la forza e la volontà e la professionalità di poter portare il Catania in breve tempo in serie A. Io ci credo. Ti voglio chiedere un'ultima cosa. Sì. Nel cassetto della tua memoria, per non fare un overbooking, come si dice, che cosa è il tuo sogno che vuoi subito applicare? Il mio sogno che vorrei subito applicare è che Catania tornasse una città vivibile come una volta. Ci sono, ne abbiamo tutti i mezzi, siamo, dobbiamo volerci bene in questa città e dobbiamo volere bene la nostra città. Io vado spesso all'estero e quando torno mi piange il cuore a vedere come noi stessi trattiamo male la nostra città. Su queste considerazioni siamo arrivati alla fine di leader. Ovviamente ringrazio Francesco Santocono per questa chiacchierata. Avremo la possibilità di averlo ospite e poi lo veicoleremo sotto il profilo mediatico anche a livello nazionale perché noi siamo sul nazionale. Ringrazio tutti voi che continuate a seguirci. Vi ricordo le nostre coordinate per scrivere il vostro pensiero. Intanto redazione chiocciola spazio notizia punto it e poi potrete farci arrivare anche i vostri messaggi via whatsapp al 379 2 24 24 20 Grazie e a tutti una felice serata. Grazie a tutti.